Lui ci fa un discorso molto chiaro, ci fa il discorso del confronto con la tradizione però questo confronto con la tradizione ovviamente lui non riproduce gli stili degli altri artisti dialoga con gli altri artisti in una ricerca che comunque rimane molto personale perché poi la cifra di De Chirico in ogni caso è inconfondibile poi per esempio con questi colori il sesamo li avrebbe mai usati in qualche modo quel cielo rosa e quel mare arancione sono a loro modo un tocco metafisico che De Chirico dà come in tantissimi altri lavori per esempio nei quadri c'è tutta questa serie tipica dei cavalli in riva al mare e questa per esempio è una sua firma, tutti i cavalli in riva al mare di De Chirico portano questa firma questa firma che non è ovviamente a parte della firma della sua scrittura ma questo contrassegno di questi tronti di colonne, questi li troviamo sempre quindi quella è una cifra veramente De Chiriciana in più se notate c'è una cosa molto particolare questi cavalli, le dimensioni dei cavalli sono assolutamente incongruenti non rispezzano le dimensioni prospettiche tradizionali sono quasi come se fossimo tornati alla cultura medievale in cui non era la distanza prospettica, la vicinanza o la vantananza degli oggetti a misurarne, a definire le dimensioni ma l'importanza in senso concettuale per cui il tronti medievale rappresentava ovviamente più grande l'oggetto in qualche modo più importante, quello a cui voleva dare il risalto lui qui ha voluto dare risalto a questo meraviglioso cavallo bianco che evidentemente ha un significato particolare il cavallo, l'altro cavallo scuro chiaramente non sono commensurabili in un discorso prospettico corretto c'è il singolo che sopravvanza la logica prospettica la logica della misurazione e quindi la tradizionale sistema di inquadramento delle cose nella pittura occidentale a partire ovviamente dal Rinascimento ecco, comunque il discorso era un po' questo per farvi capire come questa sala, ecco, abbiamo un po' il compito di sintetizzare un po' tutto il De Chirico migliore ma anche il De Chirico multiforme sia per la qualità delle opere sia ovviamente per gli sviluppi tematici all'interno del suo lavoro quali conosco se avete visto che ho avuto due a piacere da anche questo anche questo è proprio oltre Grazie 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 Grazie